Quindi qui abbiamo bucatini all'amatriciana, praticamente la pasta originale dell'amatrice che si è devastata nel terremoto. La cosa principale per la buona amatriciana è il guanciale, il guanciale e il pecorino. Quindi la cosa essenziale è mettere la pasta quando si scurre, che sta un po' al dente, mettere nella sartè e saltearla un po' di minuto o meno aggiungendo un po' di acqua di cozione.